Grazie a te, grazie a voi e all'Oltre Economia Festival, rivedersi, è veramente molto nutriente, è bello, la politica è questo secondo me, questa capacità di stare insieme e ragionare, purtroppo noi l'abbiamo persa, questo gusto e questa forza, perché davanti alla nostra televisione, davanti ai nostri piccoli schermi, ai nostri cellulari ci sentiamo piccoli e impotenti. All'inizio della pandemia a me è venuta un po' una definizione, il virus veritas, non è il vino che ci ha dato la verità, il virus in realtà ci ha fatto scoprire per quello che eravamo ma che pensavamo di non essere, per tanti anni voi mi avete accolto qua a Profuga quando spesso andavo di là all'Oltre Economia Festival a fare la parte dell'economista bizzarra, quella che diceva che con le pratiche cooperative, che con la cooperazione non la competizione, se rifiutavamo la logica del profitto avremmo potuto essere una società migliore. Beh, il virus veritas, già soltanto la prossemica di questo giardino ci dimostra che soltanto allargandola l'economia che ha un contenuto sociale, allargandola nel territorio, facendola respirare, facendogli conquistare tutto lo spazio necessario e non confinandola in un angoletto come se fosse un pericoloso nemico, si riesce a stare insieme in sicurezza e questo è un pezzo della verità che ci ha regalato il Covid. Il Covid ci lascia con 205 milioni di persone a fine 2022 che saranno senza lavoro, però erano 187 milioni prima del Covid, questo perché secondo voi la meccanizzazione, la digitalizzazione ha portato via le persone dalle miniere nelle quali si trovano i minerali rari che per esempio compongono la nostra meravigliosa economia digitale, quella super tecnologica, quella che è leggerissima? No, a margine di un dibattito a Bruxelles uno dei grandi lobbisti delle miniere europee a spasso per il mondo mi diceva ma a noi la meccanizzazione delle miniere non interessa fino a che avremo un bambino che può lavorare per pochi dollari al giorno, non c'è convenienza, non c'è vantaggio comparato, io ricordo il freddo con cui mi si fermò nella mano la tazzina di caffè con la quale stavo bevendo perché lui l'ha detto proprio con naturalezza, non abbiamo vantaggio comparato a portare in una miniera una macchina che poi si rompe e poi comunque deve essere alimentata. Ecco l'economia che noi abbiamo provato e che voi avete provato in questi anni a raccontare anche a costruire non vorrebbe adesso e non avrebbe adesso 41 milioni di persone in 43 paesi a rischio di fame quando erano prima del covid già 27 milioni due anni fa. Quei bambini che noi stiamo lasciando nelle miniere, il 70% di quei bambini è nei nostri campi addirittura, sono 160 milioni, sono cresciuti di due volte negli ultimi tre anni e l'Italia non fa eccezione anche nei nostri campi, nei nostri mercati è pieno di ragazzini. Adesso noi diciamo che è meglio che c'è quel bambino al mercato perché almeno non è da qualche altra parte a fare qualcosa, magari è meglio perché non stai in una casa occupata, magari è meglio perché non stai in una baracca e questo io l'ho sentito dire per esempio anche nella periferia della mia città, io vengo da Roma, in alcuni mercati si ritrovano i bambini adesso che portano le cassette, magari sono di prima generazione, di seconda generazione, però noi diciamo che è meglio, almeno fa qualcosa. Questa è l'economia che ci hanno raccontato di là però, non è venuta fuori dai cavoli, è un'economia che negli ultimi vent'anni, adesso Vittorio ti ricordi quest'estate quando eravamo a Genova a un certo punto un economista molto famoso, molto patinato ha detto i ragazzi di Genova avevano ragione, peccato che io a Genova avevo 30 anni, tu qualcuno in più, non tantissimi, e noi non eravamo ragazzi, soltanto che noi cercavamo di fare il bene di tutti e non solo le nostre carriere, eravamo lì da professionisti e da attivisti e da militanti perché pensavamo che ragionare insieme, che lottare insieme, che andare a ragionare anche come abbiamo provato a fare con gli scerpa del percorso del G8 e portargli la nostra versione dell'economia significava contribuire al benessere del paese, contribuire al benessere dei nostri paesi anche perché lo facevamo insieme a tanti economisti, a tanti attivisti, a tanti sindacalisti di tutto il mondo e non ci hanno ascoltato e adesso non va bene che ci dicano che avevamo ragione perché non lo sopevamo che avevamo ragione proprio perché non eravamo i ragazzi di Genova, eravamo donne, uomini che già lavoravano e che magari insieme ai ragazzi già stavano cercando di capire come ottenere quei cambiamenti. In questi 20 anni pensate che se pensiamo al PIL italiano il 13% è passato da reddito da lavoro al reddito da capitale, significa che quei soldi ce li hanno sfilati dalla tasca e ci hanno speculato. Sono andati banalmente a fare la loro ricchezza spesso finanziarizzata e quindi anche diciamo gonfiata rispetto alla consistenza reale e oltretutto che quella modalità, quella globalizzazione, quel mondo liscio che volevano assolutamente deregolato e assolutamente diciamo animato da trattati contro i quali ci siamo poi negli anni anche abbastanza scontrati insieme con tante e tante delle nostre realtà, in realtà è andato a costruire la ricetta perfetta per la catastrofe perché ben prima del Covid alle filiere europee, quindi alle catene di produzione che lavorano sui nostri prodotti, in Europa lavorano 25 milioni di persone, questi 25 milioni di persone guadagnano circa 25.6 mila euro l'anno, dice l'Eurostat, lo dice quest'anno la prima volta che ha quantificato gli effetti di spillover delle nostre catene lunghe, sapete quanti sono i lavoratori nel mondo che lavorano le stesse cose? Sono 69 milioni, sapete quanto guadagnano? Tra i 600 e i 700 euro l'anno, questa è la ricetta della catastrofe, ma non perché noi siamo sovranisti, perché noi vogliamo il lavoro solo per noi, ma perché fino a che loro non guadagneranno almeno la metà di quello che guadagniamo qui, andare da qualche altra parte e spostare una fabbrica e spostare una storia e spostare un'identità e una cultura sarà sempre più facile e con le regole che ci vogliono dare la pressione del Covid che sta portando e spingendo per un'accelerazione di quei meccanismi, chiaramente noi siamo spacciati, ma perché noi dobbiamo morire di lavoro metalmeccanico, di lavoro di miniera, di lavoro dei campi, no ma noi dobbiamo avere un lavoro e dobbiamo soprattutto far sì che intorno a quel lavoro ci siano quei costi che servono a mantenere le nostre comunità e qui comincio a raccontarvi di cos'è GKN, ma potrei parlarvi anche di Elika nelle Marche, potrei parlarvi di Sevel in Abruzzo, che cosa sono? Sono degli agglomerati di persone che intorno a delle filiere però garantiscono anche dei servizi ambientali, banalmente perché raccolgono i rifiuti e fuori, nella nostra Europa, fuori per esempio dai paesi di vecchia accessione all'Unione non è obbligatorio rispondere per esempio alla gestione dei rifiuti con la stessa attenzione con la quale noi facciamo. Da noi per esempio fuori dal GKN c'è un grande tendone a Campi Bisenzi, io ho detto quello è il posto dove noi trattiamo le acque reflue, in Polonia non c'è bisogno, in Brasile nessuno tratta le acque reflue, l'acqua esce dalla fabbrica e fa fini nei fiumi, l'abbiamo viste centinaia e visitate centinaia anche di farmaceutiche che lavorano così in giro per il mondo. Noi quando siamo per esempio i lavoratori della GKN avevano fatto un lavoro intenso proprio per accompagnare la famosa rivoluzione tecnologica e quindi quei fondi nostri di industria 4.0 che il fondo finanziario padrone di quella fabbrica non è che aveva rifiutato, aveva preso e aveva investito il robot però allora avevano fatto tutta quanto un'avvertenza sindacale per far sì che quei robot non andassero banalmente a sostituire l'operaio ma andassero anzi a facilitare le funzioni meccaniche in modo che quell'operaio non ci avesse più il mal di schiena, la gamba rotta, il femore acciaccato. Beh quella cosa ha fatto problema, quella capacità di organizzarsi, quella capacità di intervenire sindacalmente, quella capacità di studiare il fondo Merrose e di capire che forse era problematico che un fondo finanziario stesse lì a decidere le strategie di un'azienda multinazionale che operava in talmente tanti paesi che era difficile addirittura tracciare quei fondi erogati dal nostro paese dove poi stavano finendo sul serio perché con i meccanismi degli acquisti tra gruppi io per esempio investo qui però per esempio compro per diciamo fornire di robot piuttosto che di altri apparecchi le mie filiere qui le compro da un'altra società che fa parte del mio gruppo ed ecco lì che quei soldi che investo qui in realtà non finiscono qui ma magari finiscono dall'altra parte del mondo in 5 minuti e loro quegli operai, quella sapienza operaia, quella capacità diciamo garantita da un contratto a tempo pieno con 14 mensilità e anche con una diciamo con un diritto sindacale pienamente riconosciuto avevano la possibilità di capire e di determinarsi così come gli operai della Sevel, così come gli operai di Eliga e questo fa problema perché tu devi essere ignorante, ti devi incazzare col tuo pari magari perché quello non si è fatto il vaccino perché è preso chissà da altre cose quindi tu devi essere contento se lui mangia fuori dalla porta, devi essere contento se mangia fuori dalla scala perché tu invece hai fatto il bravo e quindi tu mangi dentro e quindi noi siamo concentrati anche sui social no? Tu che fai il runner, te che hai portato fuori il cane, quell'altro, ma voi ve le ricordate quelle cose pazzesche? E allora noi adesso dobbiamo fare un'operazione importante, noi dobbiamo ritornare come diceva Vittorio anche dal punto di vista economico perché siamo capaci di farlo, a rimpostare i rapporti di forza e il conflitto sul piano giusto che non è quello orizzontale tra noi ma è quello verticale perché diciamocelo passare da un giovane maschio a un vecchio maschio al comando ha peggiorato un po' le cose, vi racconto un aneddoto, con alcune e alcuni, oltre a fare giornalisti facciamo anche un po' i lobbisti buoni e quindi inseguiamo documenti, poi io vivo a Roma quindi è facile inseguire documenti nei palazzi romani, cominci a bussare ma non è che l'hai vista quella cosa e quando c'è stato il primo PNRR dopo la prima orrida versione Colau abbiamo cominciato a pensare che forse era il caso di seguirlo questo PNRR, questo piano e lì quando abbiamo visto il piano Colau e abbiamo cominciato a organizzarci per cominciare a dire con la campagna sbilanciamoci con le nostre organizzazioni a dire beh però insomma quella cosa fa anche col sindacato, quella roba lì non è che ci piace tantissimo, cioè se i nostri soldi vanno spesi così non è che abbiamo capito questa lezione del covid che dobbiamo imparare, non è che l'abbiamo capita benissimo, quindi proviamo a capire come e lì c'è stata un'intuizione da parte della comunicazione del vecchio governo che bisognava fare del situazionismo ed ecco lì che arriva a Villa Panfili e quindi in quella meravigliosa cornice da Maria Antonietta mentre noi eravamo appena usciti fuori da casa e quindi stavamo ancora lì a capire cosa succedeva ci cominciano a convocare e a dire allora te sì, te no, sindacati sì ma non tutti, donne pochissime, su maoro sì perché si è legato fuori da porta, non è che potevamo fare finta che non lo fanno, però noi contadini no e con questo che gli eleganti chiamano cherry picking istituzionale si è composta una specie di presepe che noi dicevamo ma non è possibile, cioè non è possibile che invece in un momento così tragico, invece di riunire le forze migliori del nostro paese, le nostre organizzazioni sono in mille commissioni assolutamente pleonastiche dentro al ministero degli esseri, dentro al ministero dell'ambiente, cioè tu se devi fare una cosa tutti i giorni ti chiamano da qualche parte perché devono parlare con te di qualche cosa che poi non faranno con te, però il tuo tempo lo consumano assolutamente gratuito e ti chiamano e tu stai lì e dici allora io faccio parte di quella commissione, poi fai dei bellissimi documenti, fai delle meravigliose relazioni, alla fine quando poi vanno a s***o fanno coccolà o che lo pagano e fanno una monnezza, però questo da vent'anni, questo da vent'anni, almeno venticinque da quando lo faccio io, beh al che ci viene un riflesso democratico, poi l'abbiamo chiamata società della cura, però abbiamo cominciato a telefonarci, te lo ricordi Vittorio? Ma veramente quelli si vedono lì e non facciamo niente? E vabbè però ci hanno appena fatto uscire di casa e quindi abbiamo detto vabbè facciamo un picnic, mettiamola bassa, facciamo un picnic così non dobbiamo chiedere autorizzazione, quello è un parco, siamo distanziati perché c'era pure il corretto timore per la salute di tutte e tutti e poi abbiamo fatto una specie di collegamento internet, un po' improvvisato col cellulare, quello e quell'altro, insomma alla fine è venuta fuori una cosa, 120 persone fuori che nel frattempo facevano anche un po' da isola, d'accoglienza di quelli che sono state le ciliegie colte dentro alla cornice distopica che venivano fuori e dicono ci hanno detto questo, insomma tre minuti ci hanno fatto parlare, le sette di sera non si sapeva più che fa, da quello è uscito fuori in una seconda versione del PNRR, poi una terza versione del PNRR, poi una quarta versione del PNRR e dalle nostre 120 persone di cui noi di sabato pomeriggio se ne aspettavamo tre in effetti anche forse sette, è venuta fuori l'idea di dire, cioè se avevamo avuto un'intuizione a Genova e poi a Firenze e poi nelle nostre campagne è quella che da soli non ci si salva, ma non ci si salva da soli come le bandierine del Covid, no, proprio non ci si salva da soli, perché ci dividono, perché ci mettono l'uno contro l'altro, perché il diritto della donna diventa il diritto che dobbiamo togliere all'operaio, perché il diritto del bambino allora se lo prende il bambino lo leviamo alla mamma e così via. E poi dal punto di vista economico, sempre seguendo quel benedetto PNRR e il DEF, cioè il decreto, il documento di economia e finanza, che è quindi la cornice, il piano, il budget sul quale si andava a innestare quella cosa, noi ci siamo accorti che nelle versioni successive non c'è il kinesismo, non c'è lo stato buono che penserà a noi, perché c'è un numero particolare, preciso, che voglio mettere qua in mezzo, anzi ne so due, 12 e 4, il debito pubblico del nostro paese entro il 2023 deve ridursi dal 12% al 4%, sta scritto sul DEF, nero su bianco. E dove li prenderanno quei soldi? Perché non è vero che l'Europa ha smesso di considerare il perimetro del debito pubblico dei paesi membri come qualcosa di secondario o di successivo alla garanzia della salute pubblica, mi dispiace ma non è vero. E chi lo dice? Mente, sapendo di mentire, perché i documenti del nostro Stato dicono il contrario, dicono che la spesa pubblica si dovrà ridurre in sanità e si dovrà ridurre in generale la spesa pubblica, perché noi dobbiamo rientrare vicini ai parametri debito PIL e non è detto che il nostro PIL crescerà a manetta anche se adesso stiamo mandando i caciocavalli ai marziani facendo fiere contro fiere, regalando proprio soldi su soldi alle imprese che dicono che esporteranno di più e che magari per un mese, due mesi, forse con delle promozioni riescono pure a esportare di più, ma quando un'esportazione apre un mercato, ha chiaramente una parabola ascendente, ma poi c'è una discesa e c'è un plateau, è un effetto economico studiato e noi che affidiamo un terzo del nostro PIL alle esportazioni, in questo momento è vero che stiamo correndo più di tanti altri paesi, ma perché stiamo vendendo cose nuove alla Cina, che non gli avevamo mai venduto e quando torneremo nel plateau, questo effetto friccico dei bilanci pubblici, dove finirà e dove taglieranno? Lo stanno dicendo a voi? A noi no, ma neanche alle parti sociali. Perché GKN è importante? Perché GKN è uno spazio in cui ci sono persone che vent'anni fa hanno fatto l'esperienza che abbiamo fatto noi e in questi anni hanno continuato a leggere la loro fabbrica come uno spazio in cui stavano succedendo quelle dinamiche, che noi avevamo chiamato globalizzazione, quelle cose là. E invece di rimanere a fare solo i metalmeccanici, sperando nella quattordicesima delle vacanze, hanno sperato nella quattordicesima delle vacanze, ma nel frattempo hanno continuato a tenere d'occhio le dinamiche economiche e finanziarie all'interno di quella fabbrica. E adesso insieme nel momento in cui alla fine del blocco dei licenziamenti è arrivata una mail e soltanto a quelli che avevano una mail GKN, quindi togliamoci dalla testa tutti i precari, togliamoci dalla testa tutti i somministrati e le somministrate, togliamoci dalla testa tutti i servizi, quindi a meno di 250 di tutti e 500 quelli che sono interessati da questa operazione. E gli è arrivata una mail che gli diceva guardate, adesso ci saranno i tempi sindacali, però sarete licenziati. E loro invece di dire, ah vabbè, allora che possiamo fare? Possiamo prendere dei sussidi? Possiamo rimanere ancora un po', possiamo fare gli vari articoli 28 che sono quelli che ti permettono di contestare il licenziamento e poi dopo rimanere ancora un po'. Rimanere ancora un po', allora hanno detto vabbè, sai che c'è? Che noi cominciamo subito. Questa vertenza non sarà come tutte le altre vertenze, noi la mettiamo a disposizione perché venti anni fa noi abbiamo fatto un'altra scelta, non siamo rimasti a casa, noi siamo andati a Genova e quando siamo tornati da Genova abbiamo anche fatto dopo due anni il forum sociale di Firenze e in quel forum abbiamo detto che noi, la nostra parte per cambiarle questi venti anni l'avremmo fatta e dentro a questa fabbrica noi, la nostra parte l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta perché non abbiamo spento il cervello, perché non abbiamo smesso di essere militanti neanche un giorno, perché abbiamo provato a continuare a capire, perché abbiamo provato a continuare anche nelle diverse realtà sindacali ad essere una parte di quel cambiamento e adesso ce la offrono. Il 18 di questo mese, capisco, botta calda, però il 18 settembre ci fanno una proposta che non è litighiamo, è insorgiamo. Voi direte mamma mia che parola pomposa, no, perché insorgere significa guardare in alto quello che diceva Vittorio, riportare il conflitto sulla verticale giusta che è quella verso il maschio vecchio solo al comando. Questo spazio è per tutte e tutti noi, questo spazio dobbiamo abitarlo, perché non passano, questi non so treni che passano tante volte, perché nel momento in cui uno non pensa solo a sé, ma pensa anche a noi, a questo paese, a quello che vogliamo essere. Io non so, ma io il 18 sto a Firenze e poi abbiamo un altro tema. Noi, non so se bene siete accorti, però nell'ultimo anno siamo diventati un paese di turismo per i 20 grandi della terra, G20. Perché se non ve ne siete accorti? Perché in realtà non è che hanno fatto granché, ci hanno fatto del turismo, sono andati a Matera, c'era quello con la panza che gli ha fatto vedere la panza e non hanno detto granché, nonostante ci fossero un sacco di cose da fare. Sono venuti a Roma ben due volte, l'ultima volta al Campidoglio, gli avevamo detto scusate, stiamo a morire, fate una roba. Hanno fatto delle dichiarazioni, il diritto alla salute, il gender balance e la medicina di prossimità, quanti soldi ci mettete? Non lo sappiamo. Come, dove li mettete? Lo decideremo forse al G20 congiunto della finanza che arriva bene. Allora, io non so voi, però francamente il turismo, adesso il 5 settembre, il 17 e il 18 settembre sono a Firenze, noi staremo di là, loro saranno di qua, ce ne faremo una ragione, magari gli facciamo una bussatina e diciamo, guardate G, forse non siete così G, se non siamo messi così, però vogliamo venire di diverso. Poi il 5 ottobre Gigino, il nostro ministro degli esseri, si riporta tutti a Sorrento perché gli va a parlare del Made in Italy. Cioè noi che spendiamo, che contiamo per un terzo del nostro PIL sulle esportazioni, dove li portiamo i G? Li portiamo a Sorrento. A discutere peraltro di un'azienda assolutamente imbarazzante perché nel momento in cui il Covid ci ha dimostrato che le nostre filiere sono assolutamente molto fragili, si parla di riavvicinare, ci siamo resi conto, noi eravamo in casa, le mascherine stanno da un'altra parte, i disinfettanti non li facevamo più, le cose per pulire le mani erano arrivate a 150 euro a boccettina perché in Italia non le producevamo più, quindi se non arrivavano più le navi dalla Cina, questo che significa? Significa che tu avresti dovuto ragionare anche dal punto di vista economico su quello che noi diciamo da vent'anni, rilocalizzare, riteritorializzare, produzioni strategiche, piano industriale per il paese che manca da vent'anni, chiaramente quello che non c'è, di questa cosa i G non ne parlano, parlano di Made in Italy, parlano di accelerare e rinforzare le filiere globali, cioè come lo fanno con patto con Gesù Cristo? Ditemelo perché se riescono a fermare gli incerti dei cambiamenti climatici piuttosto che riescono a prevedere incerti come questi, gli diamo la bacchetta magica, li incarichiamo del nostro futuro ma da Magotelma più che da Presidente del Consiglio, siccome questa cosa nessuno lo può fare loro vanno lì, se bevono limoncello, se mangiano babà e diranno un'altra serie di cose per poi fare quello che diceva Vittorio prima, cioè continuare a fare decine di accordi, il Vietnam per esempio ha cancellato la risicoltura a Torino e nella piana piemontese, cancellata e adesso lì c'è il problema di bonifiche, c'è un problema di zanzara che non essendoci più la coltivazione non è gestita, c'è l'inferno, l'inferno in quel territorio, perché? Perché hanno fatto un accordo che nel giro dei sei mesi ha praticamente messo fuori mercato il più grosso produttore di riso europeo che eravamo noi, che era l'Italia, allora io non è che voglio fare un discorso nazionalista, ma noi che se dobbiamo mangiare? Cioè noi dovremmo fare tutti i nani ballerine commessi di che? Ci sarà una produzione, ci sarà una vocazione, ci sarà qualcosa che è adatto a questi territori o dobbiamo morire di incerto, di avventura, di sentito tiro o di clientele, perché poi dietro molte di queste cose ci sono anche delle spiegazioni abbastanza semplici. E quindi noi vogliamo un po' andare, adesso capiremo, e l'invito è anche a tutti e a tutti voi, ragioniamo insieme come arrivare al 30 ottobre, perché il 30 ottobre i G finiscono il giretto in Italia e le finiscono a Roma. Ora, io non ho una grandissima passione per le manifestazioni, dimostrazioni, però c'è una cosa, che se c'è una cosa che in questa pandemia è sparito sono i nostri corpi. Noi abbiamo provato come società della cura, quindi come tentativo, è partito a Villa Panfili, che si è convocato tutti i venerdì su Zoom e poi anche un po' fisicamente in tutti questi due anni per cercare di tenere insieme il circolo dell'Arci, l'associazione piccola, l'associazione grande, pezzi di sindacato, pezzi delle nostre cose, e ragionare e capire che cosa fare, studiare quello che stanno facendo sulla nostra testa e provare a intervenire, provare a metterci un piede, una mano, eccetera. Però noi ci siamo resi conto che senza i nostri corpi loro fanno proprio finta di niente. Se non ci andiamo a mettere fisicamente davanti a qualche posto, in modo distanziato, intelligente, ironico, come decideremo? Però loro fanno proprio finta di niente e continuano a dire che nonostante sono maschi vecchi ricchi, sono pure donna, sono pure te studente, ti hanno capito benissimo pure te che non c'è niente, che invece non ti hanno capito proprio per niente, invece loro dicono che hanno capito proprio bene. E quindi noi questa parola, questa fisicità, questa presenza ce la dobbiamo andare per forza a riprendere e non la possiamo delegare, non la possiamo delegare ai sindacati, non la possiamo delegare agli sfascioni, non la possiamo delegare ai manifestanti di professione, no, dobbiamo essere come siamo, dobbiamo essere insegnanti, dobbiamo essere cittadini, dobbiamo essere pensionati, perché la forza, la forza di un popolo è la forza delle persone che lo compongono e un popolo, e una politica senza popolo non esiste. Una politica senza popolo è schiava, una politica senza popolo è influenzabile, è spaventabile, è orientabile. Allora se non vogliamo che anche da questa tragedia noi non ne usciamo in piedi ma ne usciamo ancora una volta strisciando, noi dobbiamo insorgere, come dice la GKN. Chi mi conosce in questi anni lo sa, io non sono né una pericolosa passionaria, Vittorio sa quanto io sono allergica a tutte le esagerazioni, ma non sono questi momenti in cui rimanere a casa. Facciamoli insieme, facciamolo in tanti, facciamoli in diversi con le forme che ci piacciono e ci fanno stare insieme in sicurezza, ma facciamoci vedere nei nostri territori, con le nostre forze, all'Oltreconomia Festival, nelle nostre città. Parliamo, pensiamo insieme e facciamoci vedere, perché noi possiamo cambiare queste cose, solo noi, insorgiamo.